Salve a tutti, in questo video tutorial continueremo con la spiegazione delle impostazioni di OBS Studio prima cosa che devo dirvi è sicuramente rispetto al video precedente ricordatevi sempre di guardare il mixer e vedere se l'audio del vostro microfono è attivo perché due secondi fa ho appena scoperto che il video che avevo fatto che più o meno era andato bene non aveva l'audio del microfono attivo perché l'avevo abbassato e ho tutto il video muto e adesso lo sto rifacendo quindi questa è una cosa che è bene che ve la mettete proprio in testa, ve la imprimete in testa nel video precedente ci siamo soffermati sulla sezione audio adesso vediamo la sezione video allora diciamo che OBS Studio registra come risoluzione massima la risoluzione del vostro schermo cioè se nello schermo avete una risoluzione a Full HD anche se la vostra scheda video supporta 5K voi potete registrare al massimo in Full HD allora la risoluzione base di solito mettete la massima che potete registrare in questo momento la risoluzione di output scalata vi serve se dovete scalare e ridurre la risoluzione del video ma sapete che la fa in tempo reale e quindi occupa di più di GPU o CPU e quindi decidete se farlo o no io non l'ho mai fatto la sezione filtro di limpici elemento serve per la scalatura in modo da decidere come scalare e che si veda bene poi ci sono gli FPS che sarebbero il frame rate diciamo i frame per secondo e per un video tutorial potete anche metterne 15 io ne metto 30 perché è un buon compromesso se volete far vedere effetti particolari di una fluidità di un gioco di un sistema operativo Linux che ha effetti strani e volete far vedere tutto a fluido potete andare anche a 60 sapete che comunque sarà un video più impegnativo con 60 frame rate e sarà anche più grande come video come spazio occupato però ha una qualità e fluidità migliore poi c'è nella sezione scorciatoie tutta una lista di operazioni che possono essere avviate attraverso delle scorciatoie da tastiera e ve le scegliete voi le vostre scorciatoie io non ne uso nessuna perché avendo un doppio monitor posso andare alla mia destra e col mouse premere start e stop e sinceramente le scorciatoie non me le ricorderei a memoria quindi farei solo confusione nella sezione avanzate io non ho mai messo le mani e l'unica cosa interessante da vedere è formattazione del nome del file ciò significa che il nome del file che viene racreato nel mio caso è l'anno il mese il giorno ora minuti e secondi e uso questa impostazione che è quella di default e di OBS perché come prima ho sbagliato il video mi sono accorto che era muto adesso salverò questo video cioè farò stop e verrà salvato il video io avrò due video però guardando solo la data saprò che quello con la data più avanti sarà quello che adesso ho registrato e che ha l'audio quindi ho la sicurezza di mandare su youtube il video corretto e per me questa è una cosa molto buona quindi ho lasciato quello che c'era di default su OBS Studio per questo video tutorial è tutto ci vediamo al prossimo e